Le donne sono più libere adesso o erano più libere ai suoi tenti? Sì Sono più libere adesso? Sì, ma sono più signorine, sono più gentili Sono più gentili adesso? Sì, quando erano rustiche Ah, una volta erano rustiche? Come dica, lei pensa qui che dalle vostre parti Che sia un grande disonore per una donna arrivare non vergine al matrimonio? No, ad essere vergine Ad essere vergine? Guarda, Dio Ah sì, e se una ragazza non arriva vergine al matrimonio, che cosa? Non si sposa? Non si sposa Ah sì, e perché questo? Eh, si usa così Ma per un giovanotto va con altre donne? Sì, sì E perché questa differenza tra gli uomini e le donne? Eh, c'è gerosia E lei pensa che non cambierà mai? Perché su nel nord, per esempio, invece questa gelosia non c'è Perché pensate che voi meridionali siete così gelosi? Eh, c'è usi così, questi malissimi E lei pensa che sarà sempre così? Sì, sì, così Sì, sempre così Anche tra i giovani avevano 16 anni adesso, anche loro la pensano come lei? Sì Non c'è niente a fare, quando te la prendi, te la prendi la vergine E niente Ah, non c'è bisogno che devi Ah, non c'è bisogno che devi